Si chiude con un bilancio molto vicino ai numeri record del 2019, la stagione turistica 2022 in Sardegna. Il ponte del primo novembre, contraddistinto dal bel tempo, ha di fatto segnato l'arrivederci al prossimo anno per la maggior parte delle strutture alberghiere della costa sarda. Al momento a essere aperti in Sardegna sono il 20% degli hotel, con poco meno del 15% dei posti letto. Ed è ora tempo non solo dei bilanci definitivi, ma di ragionare sulle prospettive per il lancio della stagione turistica 2023. Il primo a portare un commento è il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, che parla di ottimi risultati economici e della ripresa di un trend pre-pandemia. Ma, sostiene Manca, dobbiamo considerare la sorpresa finale del caro bollette che ha zerato i ricavi. Nonostante i numeri siano molto vicini a quelli del 2019, le presenze rispetto a tre anni fa si sono ridotte del 10% e anche gli arrivi nei porti e negli aeroporti sono lievemente diminuiti. Il timore degli albergatori è ora che, senza una strategia di salvaguardia delle imprese del settore, l'inflazione e il caro bollette impediscano a molti imprenditori di riaprire per la stagione 2023. Una strategia che, secondo Manca, deve passare attraverso lo stop per rincare in bolletta, ma anche attraverso la messa a punto di un progetto di diversificazione per attrarre il mercato estero. Il presidente regionale Federalberghi chiede quindi stabilità nella comunicazione e nella promozione del territorio, comunicando da subito che la Sardegna è aperta da aprile, in modo da trasmettere il messaggio che l'isola è fruibile almeno sette mesi l'anno, ma anche nelle connessioni per i trasporti, presentando il prima possibile le rotte aeree della prossima stagione estiva, comprese le tratte su Roma e Milano. E infine, l'attenzione nei rapporti di lavoro, per evitare la fuga dei professionisti del settore.